Gli atti di rivendicazione, di rigurgito nazifascista stanno diventando strutturali e questo non lo possiamo assolutamente permettere. Dobbiamo sicuramente partire dall'educazione, dall'insegnamento dell'educazione civica, dalla voglia di difendere la nostra democrazia e questo non ha colore politico. È all'indomani del giorno della memoria che il Partito Democratico di Arezzo invita tutte le forze politiche, comprese quelle di centrodestra, ad aderire alla raccolta firme per una proposta di legge contro il nazifascismo, iniziativa lanciata dal sindaco di Sant'Anna di Stazema, teatro di uno dei peggiori ecidi nazifascisti della storia. Riteniamo che sia un atto di civiltà che deve avere un'importante accelerazione per arrivare alle 50.000 firme necessarie affinché sia depositato discusso e speriamo approvato in Parlamento. E oggi facciamo un appello anche ai sindaci del centrodestra, sostenuti da forze sovraniste del territorio, mi riferisco al sindaco di Arezzo Ghinelli, al sindaco di Cortona Meoni, alla sindaca e presidente della provincia Chiassai di Montevarchi, a sostenere lo stesso impegno e soprattutto a firmare, condannando senza se e senza ma gli atti di grave intolleranza che recentemente si sono verificati anche nel nostro territorio. Tra le prime giunte comunali ad aderire alla mozione quella di Civitella in Valdichiana, paese della strage nazista del 29 giugno 1944 che fece 250 morti tra la popolazione. Purtroppo siamo uno dei comuni più stracizzati della provincia di Arezzo ma anche nel contesto nazionale, quindi questa proposta di legge ci ha trovato subito assolutamente attivi per cercare di coinvolgere il maggior numero di persone. Un appello rilanciato adesso anche dall'amministrazione comunale di Talla. Una proposta di legge che ci fa riflettere sui valori della democrazia e della nostra Costituzione.